ciao a tutti e bentrovati su veia games con naruto shippudo ultimando di ninja storm 4 sembra un rosario non sembra il titolo di un gioco allora l'altra volta l'ultima volta abbiamo fatto la parte dei ragazzi come che si intitolava aspetta un voto di memoria andiamo se ce lo spiegano di epilogo ok saltiamo il filmato perché tanto ogni volta dice sempre le stesse cose era l'ultima volta abbiamo fatto il campo di battaglia dei ragazzi la parte 1 e 2 visto che siamo ancora indietro con la parte di naruto io farei di nuovo andrei avanti con la storia di naruto che mi sembra più lunga di quella di sasuke un bel po anche forse un doppio due guerrieri senza pari e neanche di spari direi diciamo perdere cassati le battute mia perché tanto far ridere solo io sono morto ok qui c'è di nuovo vito a? sì sì Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 quindi.